No, io ho detto che si doveva partire dalla maggioranza che sostiene in questo momento il governo, questa è la mia posizione. Poi Forza Italia è un interlocutore, per carità dal punto di vista delle riforme, è chiaro che si parla anche con Forza Italia. Modalità di discussione con Berlusconi, francamente si poteva anche farlo in maniera diversa. Io non l'avrei fatto. Non è governato.